Quindi quello che mi ha attirato in primo luogo è stata questa volontà di costruire un'azione politica che ovviamente non è neutrale perché va a scardinare il principio di privatizzazione dello spazio pubblico, va a proporre nella pratica un uso mutualistico e sociale degli spazi, però anche forme politiche nuove molto più eterogene di quelle tradizionali che possono dare spazio a posizioni diverse e che si nutrono proprio delle pratiche politiche mutualistiche. L'asilo, primo tra una serie di altri spazi che ci sono stati a Napoli e poi hanno seguito lo stesso percorso, spazi anche molto diversi, che però hanno seguito un simile percorso giuridico, ha proprio inventato un nuovo strumento per vedersi riconoscere lo spazio. L'obiettivo non era solo e non era tanto quello di mettere in sicurezza lo spazio, ma proprio di creare nuove istituzioni. E così è nato l'uso civico e collettivo urbano che si ispira all'uso civico tradizionale che è uno strumento di uso e se vogliamo anche di gestione in parte di terre collettive che nasce come modalità d'uso di proprietà condivise da parte di una comunità di riferimento che si dà da sola, attraverso l'uso, le norme per autoregolarsi. La risposta che spesso si sente dire rispetto a qualsiasi rivendicazione che riguarda i diritti, ovviamente soprattutto i diritti sociali, è che non ci sono i soldi. Ci sono i soldi. Non ci sono mai soldi. Però, quindi c'è il debito, non ci sono i soldi perché c'è necessità di un pareggio di bilancio. Il movimento cittadino ha dimostrato ampiamente che spesso sono anche regole sul bilancio a creare il debito. Nel senso che, a seconda di come si regola il bilancio, si devono accantonare delle somme al passivo e quindi aumenta il debito. Lo slogan era, se il debito è pubblico, pubblicamente va discusso. A partire da studi che ci sono sul sistema del debito, cioè su come il debito sia spesso il frutto di una dominazione a tutti gli effetti coloniali, quindi di un rapporto di forza che ha indotto a contrarre il debito. Quindi ci siamo chiesti da dove nasce questo debito. E appunto la consulta di Audit nasce da un tavolo che è nato innanzitutto informente, che appunto studiava il debito del comune per vedere quali parti fossero illegittime, cioè non contratte, nell'interesse dei cittadini. E questo è stato poi lo scopo istituzionale della consulta, cioè di vedere quali debiti fossero contratti al di là o addirittura contro l'interesse generale e quindi chiedere alla città di non pagarli. La consulta era anche proporsi nel dibattito con una voce che venisse direttamente dalle comunità degli abitanti, di chi si prende cura dei beni comuni, che noi chiamiamo abitanti proprio appunto perché abiti lo spazio e non letteralmente essere residenti in questi spazi. E poi per quanto riguarda Napoli appunto, citavi il discorso di Audit sul debito perché un'altra cosa importante del percorso che c'è stato è stato, è stato quello di non volersi fermare agli spazi, che di per sé possono anche diventare isole felici, appunto in città che poi vive di problematiche strutturali, ma anche una volontà di cambiare le istituzioni anche a più ampio raggio. Quindi dopo aver creato nuove forme di gestione di uno, appunto di riconoscimento di uno spazio autogestito, si sono create anche delle nuove istituzioni partecipative per contribuire al governo del territorio, che sono state l'osservatorio sui beni comuni e la consulta di Audit sul debito. Sono entrambi organi che hanno una componente partecipativa perché appunto, proprio come esplicitamente detto dall'avviso pubblico con cui sono stati formati, sono composti anche da attivisti e attiviste e comunque da persone che abbiano una sensibilità, appunto non semplicemente una conoscenza, una expertise su le rispettive materie, ma anche una sensibilità che volge alla tutela di questi beni. Quindi appunto di nuovo organi non neutrali, ma che servono proprio, sono organi consultivi, quindi servono a supportare il comune, ma anche ovviamente le comunità nel trovare delle soluzioni condivise. E l'audito ovviamente trova un suo senso appunto in questa ricerca che c'è stata di forme democratiche diverse. Quindi la posizione che è stata presa è stata contro la dismissione del patrimonio e soprattutto contro la dismissione di tutti quei beni dove ci sono in atto esperienze di autogoverno, quindi che la comunità rivendica come beni pubblici in senso di beni partecipati, che abbiano una governance pubblica partecipata o che si autogovernino. E quindi appunto il riconoscimento di forme e di modalità diverse di gestire lo spazio pubblico, perché come dicevo poi la cosa importante non è avere uno, due, tre palazzi che sono autogestiti, ma anche immaginare proprio delle modalità diverse sia di partecipazione degli e delle abitanti al governo del territorio, ma anche appunto del governo del territorio stesso, che sia poi diverso dalle logiche della privatizzazione. Non è semplice proporre delle soluzioni in un contesto come questo, né è semplice immaginare subito un rapporto tra un soggetto politico, poi non so poi di che genere di soggetto si voglia parlare, però un soggetto politico ben identificato e comunità che si vogliono eterogene e che magari di per sé hanno rigettato poi l'ipotesi di un soggetto politico. Però sicuramente a mio avviso un dialogo è possibile, secondo me anche è giusto che sia dialettico. Credo che quello che ci sia da imparare, secondo me, da queste esperienze sta soprattutto nel metodo, nella metodologia con cui queste esperienze si muovono. Intanto di coinvolgere direttamente, di partire dalla voce di chi è poi destinatario o destinataria degli interventi che si vogliono fare, quindi partire direttamente dal dare voce, dal dare spazio a tutte quelle soggettività svantaggiate e con cui si vuole dialogare. E poi ripartire dalle pratiche. Per quanto tante volte ci sia una critica di chi dice che queste esperienze comunitarie che non riescano ad andare poi al di là di una piccola scala o di un piccolo spazio e che comunque saranno scavalcate dagli eventi, eccetera. Critica che sicuramente può essere in parte vera. Secondo me è importante però da queste esperienze cogliere la potenzialità di come da una pratica, che può essere una pratica musualistica, una pratica di uso di uno spazio, si può arrivare a concepire delle politiche, delle politiche culturali, delle politiche urbane e anche dei nuovi organi partecipativi.